Mare fuori 3, anticipazioni seconda puntata, episodi mercoledì 22 febbraio 2023. È iniziata anche su Rai 2 Litro Amatissime e seguitissima serie Mare Fuori, giunta al terzo capitolo. La fiction, lo ricordiamo, è già disponibile in streaming con tutte le puntate sulla piattaforma Rai Play. Mentre in tv la prima puntata con due episodi è andata in onda mercoledì 15 febbraio 2023. Ma cosa accadrà adesso nei nuovi episodi? Come si svilupperà la storia? Cerchiamo di scoprire tutte le anticipazioni in questo articolo. Prima di adentrarci nella trama del secondo e del terzo episodio vediamo cos'è successo nella prima puntata. Il primo episodio di Mare Fuori 3 si intitola L'odio necessario mentre il secondo Le richiamo del sangue. Ma come si è aperto dunque questo terzo capitolo? Rosa Ricci si è fatta arrestare con l'intento di vendicare i fratelli. Cardiotrap invece è rimasto sconvolto e ha atteso la notizia della morte di Fabio. Paola intanto ha deciso di interrompere la sua relazione con Massimo. La Rai ha deciso, come del resto ormai siamo abituati quando si parla di fiction e serie di mandare in onda per ciascuna prima serata due episodi. In tal senso allora? Mercoledì 22 febbraio 2023, vedremo l'episodio 3 intitolato Doppia vendetta e il numero 4. Dal titolo L'amore che salva. Venendo alla trama, secondo le anticipazioni. Edoardo è ossessionato dall'idea di vendicarsi su Mimmo e minaccia Pirucchio e la sua famiglia. Mimmo, invece, viene invitato da Donna Vanda a far sì che Rosa Ricci non sia più un pericolo per il figlio. L'appuntamento è allora tra sette giorni sempre su Rai 2 a partire dalle 21, 20. Oppure, come sopra riportato, su Rai Play dove troverete tutti gli episodi compreso anche il finale di stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.